A fine luglio il portale museman.com ha classificato il castello di Gradara fra le 20 mete preferite dai turisti italiani su 2000 attrazioni monumentali censite. E' ormai crescente la luce dei riflettori che si sono accesi sul borgo dei borghi della punta settentrionale delle Marche, col risultato di un'estate di grande afflusso turistico e di visitatori frutto di una programmazione pluriennale dell'amministrazione e di un'annata di celebrazioni dantesche sulle quali Gradara si è adeguatamente cucita un palinsesto di eventi su misura. Guardiamo il futuro e per questo Gradara ha predisposto un programma di eventi quest'anno davvero ricco ovviamente molto incentrato sul tema di Paolo e Francesca e Francesca Darimini in particolare siamo nell'anno dantesco, 700 anni dalla morte del sommo poeta e Gradara ha un calendario ancora da esplorare molto vasto e ricco di eventi di qualità, non solo Dante, non solo Francesca Darimini abbiamo ancora tantissime iniziative dall'allenogastronomia alla musica alla rivoluzione storica e davvero c'è per tutte le età e per tutti i gusti. Quindi Gradara ci crede e cerchiamo anche di allungare poi la stagione, un agosto molto importante, luglio anche e con numeri molto importanti abbiamo anche superato i dati del 2019 pre-covid e cerchiamo di prolungare ancora di più la stagione facendo eventi anche nel periodo autunale ed invernale. Agosto è nata benissimo, luglio e agosto sono nati benissimo, le strutture ricettive sono tutte piene e noi come comune intanto stiamo facendo il possibile, intanto abbiamo dotato il comune di stazioni elettriche perché comunque pensiamo anche alla mobilità sostenibile, quindi alle auto elettriche, i turisti che vengono che purtroppo hanno poca autonomia e quindi hanno bisogno di ricaricare, quindi amplieremo questa infrastruttura che abbiamo.